Con MRGE si intende la malattia da reflusso gastroesofageo. Questa è una patologia purtroppo sempre più comune. Cerchiamo di capire quali sono i fattori del nostro stile di vita e della nostra alimentazione che possono peggiorare questa patologia e come intervenire per cercare di risolverla naturalmente. Ciao a tutti, io sono la dottoressa Carlo Tagnavi, farmacista e naturopata. E oggi sono qui per parlarvi del reflusso gastroesofageo perché, come dicevo, è sempre più comune. Allora, con il termine MRGE, questo acronimo si intende appunto malattia da reflusso gastroesofageo, intendiamo la patologia del rigurgito acido. Allora, quando questo rigurgito supera le due volte a settimana, quindi notiamo che c'è una frequenza un po' più importante, allora si parla già di malattia da reflusso gastroesofageo. Quando è così, io raccomando sempre di parlarne subito col proprio medico perché la risalita di questi acidi dallo stomaco all'esofago può creare tanti danni perché l'esofago, che è un tubo, detto in modo molto semplice, che porta il cibo alla sacca dello stomaco, non è organizzato per resistere all'attacco dell'acido cloridrico che risale dallo stomaco. La natura è sempre perfetta, quindi ha fatto sì che lo stomaco fosse in grado di gestire un'acidità molto alta, parliamo di un pH intorno a 2. Ed è giusto che sia così. Quindi a noi serve un buon quantitativo di acido cloridrico nello stomaco perché questo ci permette di iniziare a digerire i cibi correttamente, di poter assimilare vitamine, minerali, produrre tutta una serie di fattori come il fattore intrinseco che ci permetterà l'assorbimento della vitamina B12. Quindi la natura, come dicevo, è perfetta e ha fatto sì che tra stomaco ed esofago ci fosse una valvola. Questa valvola si chiama cardias, è uno sfintere, quindi è proprio una chiusura muscolare che dovrebbe chiudersi in determinati momenti e aprirsi per far passare il cibo, dopodiché richiudersi, proprio per evitare la risalita di succhi gastrici a livello dell'esofago. Purtroppo non sempre questo accade. Quando questo non avviene più, quindi il cardias perde questa capacità di contrarsi e di chiudersi, allora può avvenire questo rigurgito acido, quindi questo reflusso, cioè questo ritorno di succhi gastrici a livello esofageo. E può salire, può arrivare fino alla gola, può arrivare fin dietro verso i seni paranasali. Ecco perché i sintomi del reflusso sono così numerosi, perché noi possiamo avvertire l'acidità ovviamente nella zona dell'esofago, qui centralmente, possiamo avere mal di gola, possiamo avere una tosse secca, stizzosa, dove non c'è catarro ovviamente, ma è causata da questa infiammazione degli acidi gastrici, possiamo addirittura avere la sinusite causata dal reflusso. Quindi i sintomi sono tantissimi, come anche un singhiozzo persistente, dolori addominali, gonfiore addominale, sono molti. E noi dobbiamo cercare di risolvere questa cosa, ma prima di tutto per risolverla dobbiamo capire la causa. Attualmente a livello farmacologico il reflusso si tratta con fondamentalmente una classe di farmaci, soprattutto ci sono anche gli H2 antagonisti, ma soprattutto con gli inibitori di pompa protonica o IPP. Questi sono farmaci come ad esempio l'omeprazolo, l'ansoprazolo, l'esomeprazolo, che vanno a inibire la produzione di acido cloridrico a livello gastrico. Quindi è per questo che io dico è una cura relativa, perché in realtà vado a ridurre l'acidità dello stomaco, perché così anche se il reflusso c'è è meno dannoso, questo è quello che si fa. Quindi in realtà non vado a risolvere il reflusso, vado a limitare il danno provocato dal reflusso, ok? Il punto qual è? E' che questi farmaci vanno utilizzati con estrema attenzione e spesso le persone tendono ad abusarne, quindi a utilizzarlo per periodi molto lunghi. Però sappiate che questi farmaci andando a bloccare la produzione di acido a livello gastrico riducono moltissimo l'assorbimento di tantissimi micronutrienti, come vitamine, minerali, vitamine necessarie importantissime come la B12, come il ferro, come lo zinco. Questo nel tempo ha dimostrato poter essere un fattore predisponente addirittura a patologie come la depressione. Quindi io addirittura potrei, dopo due anni di inibitore di pompa, avere un'altra problematica e non riuscire a collegarla con la vera causa, che magari è proprio il farmaco che sto assumendo. Quindi mi raccomando, voi parlatene sempre con il medico, non fate il fai da te, e questo io veramente ve lo raccomando. Chiedete per quanto tempo utilizzarlo e quando potete sganciarvi da questo, ma soprattutto dovete capire quali sono quegli stili di vita e anche alimentari per evitare che questo riaccada, perché altrimenti siete sempre appunto a capo. Ed è il motivo per cui sentivo la necessità di fare questo video, perché io troppo spesso mi accorgo dell'abuso di questi farmaci. Questi farmaci per fortuna esistono e riducono tante volte situazioni ulcerose che potrebbero essere, dare complicazioni molto gravi, ma vanno assunti assolutamente con criterio. Prima di tutto, noi per far sì che la valvola si chiuda bene, dobbiamo togliere quei tre elementi che stimolano il rilassamento del cardias. Queste tre sostanze altamente dannose per il cardias sono la nicotina, quindi se fumiamo dobbiamo smettere, mi dispiace, ma è così. La caffeina, se abbiamo reflusso utilizziamo il caffè decaffeinato, perché la caffeina in questo momento potrebbe essere un problema. Terzo, l'alcol. Se abbiamo reflusso non dobbiamo bere alcolici. Una volta ripristinata la funzione dello stomaco e del cardias, una volta ritrovato il benessere, allora gradualmente ogni tanto anche quel mezzo bicchiere di vino lo potremmo anche bere senza avere il fastidio. Ma prima bisogna risolvere la situazione, ok? Dopodiché, attenzione all'alimentazione. È stato visto che i cibi molto grassi, soprattutto contenenti grassi idrogenati, che sono drammaticamente dannosi per la nostra salute, peggiorano il reflusso. Quindi cerchiamo di mangiare in modo equilibrato ed evitare tutto ciò che è cibo spazzatura, cibo ricco di grasso, cibi che hanno bisogno di tanto tempo per essere digeriti, che quindi causano un rallentamento dello svuotamento gastrico. Più il cibo rimane nello stomaco, più io ho il rischio di reflusso, ok? Questo è molto importante. Quindi, proprio per questo, la sera, che è il momento peggiore, dovremmo cercare di avere una cena leggera e soprattutto cenare e concludere la cena almeno due, sarebbe meglio anche tre ore, prima di coricarci. Quindi evitiamo di mangiare cibi molto indigesti la sera, piuttosto mettiamoli a pranzo. La sera cerchiamo di mangiare qualcosa di leggero che sia facilmente digeribile e poi, mi raccomando, attendiamo due o tre ore prima di coricarci. Noi dobbiamo rimanere nella posizione dritta per favorire la discesa di tutto il cibo. Altro trucco che vi raccomando per evitare il reflusso notturno, perché durante la notte, ovviamente, il rischio di reflusso è molto più alto. Perché? Perché noi, mettendoci nella posizione coricata, sdraiata, ovviamente abbiamo lo stomaco in linea con l'esofago e questo facilita il reflusso gastrico. Lo vediamo semplicemente con l'acqua contenuta in questa bottiglia. Come vedete, in posizione verticale, l'acqua, immaginate che questo sia uno stomaco, l'acqua in basso, ma se io mi corico, immaginate che qui parta l'esofago, che il tappo sia al cardias, se io mi metto in posizione orizzontale, vedete che l'acqua arriva al tappo e se il cardias non chiude bene, ovviamente avrà facilità a risalire. Allora, che cosa possiamo fare? Io spesso sento dai miei clienti che c'è un po' la tendenza a provare a dormire con due o tre cuscini. Questo, a mio parere, non va bene perché prima di tutto con due o tre cuscini noi alziamo semplicemente la testa, quindi il resto del corpo rimane in linea e poi c'è questo salto causato dal cuscino. Questo non va bene soprattutto per la zona cervicale, rischia di infiammarla. Noi, semmai, quello che dovremmo fare è innalzare tutto il letto, quindi rimanere in asse, perfettamente in linea, perché così dobbiamo dormire, ma anziché essere in questa posizione orizzontale, semplicemente alzarlo un po'. Per fare questo, noi basta che aggiungiamo dei cubetti di legno che vendono, sono molto economici, da mettere sotto i piedi del letto, soltanto nella zona dove appoggiamo la testa, così da inclinare tutto il letto. Bastano 5-10 centimetri, non abbiamo bisogno di un'altezza esagerata, però questo facilita il ritorno dei succhi gastrici a livello dello stomaco ed evitano questa risalita. Anche perché tante persone non si accorgono del reflusso durante la notte, però alla mattina si svegliano e notano l'infiammazione, notano l'alito cattivo, un gusto cattivo in bocca, un'infiammazione nella zona delle orecchie, dei seni paranasali. Questo è tutto un segnale di reflusso e ribadisco, il reflusso è altamente dannoso, ok? Altra raccomandazione, mi raccomando, dobbiamo bere. Lo dico perché anche a me ogni tanto succede di soffrire un po' di reflusso e mi accorgo che quando mi capita sono due i motivi per cui succede, perché io non bevo molti caffè e non fumo e non bevo alcol, quindi non sono queste le cause. Il problema è che non mi idrato abbastanza perché magari mi sono dimenticata oppure perché in quel momento sono particolarmente stressata. Allora, l'acqua è necessaria, soprattutto a stomaco vuoto. Anzi, io raccomando di non bere durante i pasti, soprattutto se soffro di reflusso, perché il fatto di aggiungere dell'acqua rallenta la digestione. Quindi noi beviamo prima di mangiare, magari 20 minuti prima, e poi non beviamo più durante il pasto, aspettiamo almeno un'ora dopo il pasto per bere nuovamente. Però se noi inseriamo la buona abitudine di bere acqua al mattino a digiuno, quindi con lo stomaco completamente vuoto, quest'acqua arriverà tranquillamente a tutto l'esofago e allo stomaco e stimolerà dei fattori di crescita che andranno a stimolare le capacità di autoguarigione del nostro stomaco e del nostro esofago. Quindi se ci fossero già delle piccole lesioni, delle piccole ulcere, semplicemente bevendo l'acqua noi possiamo andare a ripararlo. Significa almeno farlo per una decina di giorni. Vi assicuro che se iniziate a bere l'acqua al mattino a digiuno, come io raccomando sempre, nell'arco di 10-15 giorni noterete già una bella differenza. Oltre a questo, come dicevo, bisogna anche gestire l'aspetto emozionale, perché ognuno di noi ha magari un organo su cui scarica in modo preferenziale, però la stragrande maggioranza delle persone scarica a livello gastroenterico. Quindi c'è chi più a livello gastrico e quindi magari gli viene il reflusso e chi a livello intestinale magari viene la colite. Però sono sempre segnali del nostro corpo. Ricordiamo sempre che il corpo ci manda dei segnali che non devono essere zittiti. È un po' come dire, la macchina ha la spia che si accende per dirmi che è finito l'olio, a me da fastidio quella spia ci mette un pezzo di scotch di nastro nero sopra, così la spia non la vedo. Grazie, era un segnale per dirmi che io devo fare qualcosa per risistemare quella macchina, quindi io non devo zittire o mascherare quel segnale, io lo devo capire e lo devo risolvere. Così come anche questi segnali legati all'aspetto psicosomatico. Se io sto gestendo male lo stress, alt, mi fermo, che cosa devo fare per gestirlo meglio e cerco di agire. E allora ecco che il mio corpo risponderà in modo positivo a tutto questo. Dopodiché ricordiamoci che ci sono anche dei rimedi fitoterapici che ci vengono in aiuto, ad esempio l'aloe. Il succo d'aloe che è una pianta meravigliosa, è molto potente, è un immunomodulante, è un cicatrizzante perfetto di tutto il tratto gastroenterico. Io dico cicatrizza e disinfiamma dalla bocca all'ano, quindi che io abbia problematiche intestinali, problematiche di emorroidi oppure problematiche gastriche, ulcera peptica, ulcera gastrica, reflusso, infiammazione esofagea, utilizziamo il succo d'aloe. L'aloe andrebbe preso a digiuno, crea proprio una sorta di film, stimola le capacità di autoguarigione dei nostri tessuti, li filma. Ovviamente dovete avere pazienza a utilizzarlo per periodi discretamente lunghi. Io in genere consiglio almeno tre mesetti di succo d'aloe. Ovviamente succo d'aloe non anacquato. Fate sempre attenzione all'aloe che scegliete perché altrimenti potrebbe non darvi il risultato. Secondo rimedio interessante della fitoterapia da utilizzare in caso di reflusso gastroesofageo è la liquirizia. La liquirizia è un ottimo rimedio che facilita la digestione ma soprattutto è un ottimo cicatrizzante e un antireflusso. Noi possiamo utilizzare la liquirizia semplicemente succhiandone la radice oppure facendone un decotto oppure usando proprio i pezzettini di liquirizia glabra. Possiamo utilizzarla come desideriamo. Se abbiamo un'ulcera la liquirizia riesce proprio a riparare la mucosa. Stiamo attenti se soffriamo di ipertensione. Questo lo raccomando sempre. Se soffriamo di ipertensione utilizziamone poca e utilizziamo quella deglicirinizzata, cioè quella senza la glicirizina che è uno dei suoi principi attivi che è molto utile dal punto di vista ad esempio antivirale, però per quanto riguarda l'ipertensione potrebbe essere un problema. E per ultimo ricordiamoci che dobbiamo abbassare, ridurre la pressione addominale. Come facciamo ad abbassare, ridurre la pressione addominale? Allora, prima di tutto se questa pressione addominale la causiamo noi ad esempio quando andiamo in bagno, perché non mangiamo sufficienti fibre e quindi le nostre feci sono piccole, secche, definite caprine, allora noi dobbiamo sforzare troppo quando andiamo in bagno, allora questo potrebbe causare un'erniazione dello stomaco, quindi una risalita nel torace di una parte dello stomaco che causa la cosiddetta ernia iatale. E se si crea questa ernia, allora a quel punto lo sfintere anche lì non si chiude più. Allora una buona quantità di fibra è necessaria nella nostra alimentazione perché non solo la fibra ci aiuta a disintossicarci, eliminare tutte le sostanze di scarto perché le ingloba, ma ci permette di avere delle belle feci morbide e non dover spingere esageratamente quando andiamo in bagno. Secondo, la pressione addominale è causata dal grasso viscerale, quindi dobbiamo cercare di ridurre il grasso addominale, quindi se siamo in sovrappeso, in obesità dobbiamo dimagrire. Terzo, stiamo attenti a come ci vestiamo. se mettiamo dei jeans troppo stretti, se stringiamo troppo la cintura, se usiamo degli indumenti troppo aderenti che stringono a livello addominale, tutto questo può favorire il reflusso e non va bene. Quindi cerchiamo di vestirci comodi e limitare a giusto qualche uscita i jeans troppo stretti. Cerchiamo di permettere al nostro addome di rimanere rilassato e non troppo costretto. Bene, io spero con questo video di esservi stata utile e di avervi dato dei consigli facili da mettere in pratica. Se così fosse, mi raccomando, condividete questo video con le persone a cui volete bene. Se vi è piaciuto il video, mi raccomando, un like di supporto, commentate qui sotto e noi ci vediamo la prossima settimana. Io vi mando il mio più caro abbraccio. Ciao!